L'impegno che abbiamo assunto tre anni fa con la società Era Ora che con le H davanti vuol dire stagione feconda, devo dire mai come... La squadra, no voglio sapere tutta, a me diverte sapere delle cose, le parti quelle che poi non si racconta, il viaggio a Manchester, quando ha chiamato il shake? Ci si fa forza questa, io ho avuto una squadra a partire da Rinaldo Sagramola di cui credo che c'era una domanda, a tutti, 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 fortissimo vinci, quando persegui il bene, quando hai coraggio ti aiuta, poi è arrivata Santa Rosalia con la sua magia.